A folata assemblea dei lavoratori Ilva in amministrazione straordinaria di Wilmu e OSB non hanno più certezze sul proprio futuro dopo il disconoscimento della validità dell'accordo per il rientro in fabbrica del 2018. Assemblea congressuale dei comuni dell'Ancipuglia a Taranto per il rinnovo degli organi statutari dell'associazione. Istanza al prefetto del consigliere comunale Vietri dopo la richiesta a ferma non ci sono stati forniti documenti relativi a Chimambiente Amiu. Benvenuti all'edizione di Taranto nel nostro telegiornale che apriamo dunque con la protesta sindacale della Wilmu. Si tratta dei tanti lavoratori di Ilva in AS, amministrazione straordinaria. Sono recati all'hotel Salina, erano tantissimi. Vediamo il servizio di Leo Spalluto che ci spiega il perché di questa manifestazione di protesta. Sono pronti alla mobilitazione, non c'è più tempo da perdere per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria. Gli operai iscritti a Wilmu e USB hanno grimito i saloni dell'hotel Salina per un'assemblea sindacale affollatissima, come non si vedeva da tempo. La preoccupazione alle stelle, i toni forti, l'accordo per il rinnovo della cassa integrazione firmato da Fim e Fium non riguarda le sorti dei 1.600 lavoratori di Ilva in AS, affidate ad una trattativa separata. Ma per Wilmu e USB, che non hanno firmato, il rischio è che questi lavoratori siano considerati definitivamente fuori il perimetro aziendale. Per loro, dicono, Stato e azienda stanno disconoscendo l'accordo del 6 settembre 2018, che prevedeva il riassorbimento di 1.600 operai entro il 2025, come ribadiscono i segretari Davide Sperti e Franco Rizzo. Siccome le abbiamo anche chiesto all'azienda di sottoscrivere che alla fine dell'ammortizzatore sarebbero rientrati tutti i lavoratori sociali, l'azienda si è rifiutata anche di questo, quindi per noi c'è una logica spezzatino. C'è la S sugli accordi del 2020. Adesso creare potenziali esuberi strutturali tra chi è sospeso in cassa straordinaria, cioè 2.500. In futuro potenziali esuberi, se mai si farà la transizione ecologica, noi non ci stiamo. Lo schema, dal nostro punto di vista, è che bisogna garantire questi lavoratori, bisogna confermare quanto abbiamo già deciso in sede ministeriale nel 2018. Ovviamente siete pronti a iniziative di mobilitazione? Assolutamente sì. E lo dico, stavolta o qualcuno ci ascolta seriamente o andremo fino in fondo, perché non è accettabile sacrificare 1.600 persone buttando miliardi di euro in favore di una multinazionale che a Taranto ha fatto solamente danni. Intanto c'è un'altra notizia. C'è ieri d'Italia ottenuto la certificazione energetica che specifica requisiti per stabilire e implementare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia, superando positivamente tutte le verifiche dell'ente certificatore. Andiamo avanti adesso parlando di un altro avvenimento di questa mattina. Il consigliere comunale di opposizione di Taranto Vietri si è recato dal prefetto per formalizzare una richiesta di accesso alle carte, come si suol dire, perché non sono stati forniti a sudire i documenti legati alla vicenda Chima Ambiente Amio. Documentazione negata sulla gestione di Chima Ambiente Amio è questo l'oggetto di un'istanza presentata al prefetto di Taranto Demetrio Martino dal capogruppo in consiglio comunale di Taranto di Fratelli d'Italia, Gianpaolo Vietri, accompagnato dalla consigliera Tiziana Toscano e da Jacinto Fallone. Vietri ricorda di aver rappresentato al comune richiesta degli atti sin dallo scorso 25 febbraio, rimasta senza esito. Pertanto ha chiesto al prefetto di richiamare l'ente civico a rispetto delle norme in tempi celeri e ricorda di non aver potuto consultare le carte in tempo per il consiglio monotematico sull'Amiu in programma nella giornata di mercoledì 5 aprile. Chiediamo a Sua Eccellenza il prefetto di intervenire affinché siano rispettate le regole basilari sulla trasparenza. Nonostante tutto quello che sta succedendo riguardo l'Amiu, noi sono 40 giorni che abbiamo chiesto i report circa i flussi di liquidità dell'azienda e le relazioni tecnico-gestionali e sono 40 giorni che questi atti non ci vengono rilasciati. Questo è assolutamente grave perché voglio ricordare che rientra nel diritto dovere dei consiglieri comunali giungere alle sedute di consiglio comunale preparati e controllare gli atti dell'amministrazione comunale. Si parla di licenziamenti, la differenziata è fallita, la Tari aumenta e c'è una forte crisi di liquidità da parte dell'azienda. Ci chiediamo il perché il comune non ci rilascia la documentazione richiesta. E adesso torniamo a Verona da Gianmarco Sanzolino che sta seguendo Vignitali, giorno numero 3. Ovviamente ci soffermiamo sulle produzioni locali del territorio ionico. Gianmarco, vedo che hai un ospite a te la linea. Sì, buon pomeriggio. Vi parliamo di una novità importante introdotta proprio dal Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. Siamo nel loro stand nel padiglione 11 di Vignitali 2023, lo facciamo con la Presidente Novella Pastorelli. La vedete qui, una fascetta, ce ne sono due, la azzurra per la DOC e la dorata per la DOCG. Una fascetta che rappresenta una doppia tutela dal gennaio del 2023 per i produttori di questi vini ma anche per i fruttori finali. È vero? Sì, un provvedimento voluto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l'introduzione della fascetta di Stato per la DOC. Ricordiamo che la legge italiana prevede che la fascetta sia obbligatoria soltanto per la DOCG ma il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela lo ha voluto introdurre anche per la DOC proprio a garanzia e a tutela massima del prodotto contenuto all'interno di una bottiglia. Quindi chi berrà primitivo di Manduria sa che questo è un prodotto autentico perché contraddistinto da una fascetta di Stato. E così si evitano anche le contraffazioni. È tutto, voi. Molto bene, grazie Gianmarco Sanzolino. Adesso ci occupiamo del precetto Pasquale Interforce. È una tradizione che quest'anno attraverso le parole dell'Arcivescovo Monsignor Santoro ha puntato l'attenzione sulla pace. Come vuole la tradizione, nella Settimana Santa l'Arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro, ha presieduto il precetto Pasquale Interforce. Oltre alla fede e il rispetto di questa tradizione religiosa, l'occasione è servita per celebrare in un solo momento la collaborazione tra le Forze Armate e le Forze dell'Ordine. Una sinergia imprescindibile. Monsignor Santoro, durante la celebrazione eucaristica, rivolgendosi ai militari presenti, ha detto siate portatori di pace. La Pasqua è un messaggio che indica un passaggio, un passaggio da un clima di chiusura, un clima di apertura. Il Signore viene per trasformare la vita delle persone, ma anche la società, e per farci costruttori di pace. Questo è l'obiettivo della nostra vita, metterci a servizio della pace, nella difesa della patria, nella difesa dell'ideale, nella difesa di ciò che dà senso alla nostra vita, che è l'incontro col Signore risorto. Un momento di unità che rafforza il legame tra le Forze Armate di Taranto e le istituzioni cittadini e tutta la cittadinanza. E siamo adesso alla cronaca, vi mostriamo queste immagini, paurosa carambola tra auto, nella notte sul tratto di strada che porta al ponte Punta Penna, quindi siamo alle porte di Taranto. Uno dei due veicoli, dopo l'impatto, si è più volte ribaltato. Il conducente è uscito da solo e illeso dall'abitacolo della vettura che ha concluso la sua corsa, come vedete, su un fianco. L'uomo teneva stretta tra le mani la Bibbia, ferita in maniera non grave. Una donna che viaggiava sull'altra vettura, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata in ospedale al Santissima Annunziata. La Polizia di Stato è intervenuta per appurare la dinamica del sinistro. Lo scontro è avvenuto tra una Opel Corsa e una Opel Mocca. Traffico interrotto questa notte sul ponte Punta Penna per circa un'ora per mettere in sicurezza e rimuovere i veicoli. Vedete le immagini del nostro Francesco Manfuso. Più di 80 persone hanno partecipato all'evento organizzato a Taranto dall'ARPAL Puglia. Centri per l'impiego e G-Group a caccia di un posto di lavoro. Sentiamo Leo Spalluto. Grande successo per il Recruiting Day organizzato a Taranto dall'ARPAL Puglia, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro e G-Group con il coordinamento dei centri per l'impiego della provincia di Taranto, diretti da Domenico Pellegrini. Benottante i candidati che si sono prenotati nella prima parte della giornata per sostenere colloqui diretti nei saloni della provincia con gli operatori ARPAL EG Group e cercare un'opportunità di lavoro nel turismo, nelle telecomunicazioni, nel tessile, nella metalmeccanica, nell'edilizia e nell'impiantistica. Sono molto contenta di vedere questa situazione perché l'abbiamo preparato questo Recruiting Day pensando appunto di favorire le imprese del territorio che cercano personale e comunque molto spesso le stesse imprese non sanno di avere a disposizione questo strumento che è praticamente completamente gratuito. Ci sono imprese che pagano anche magari i cosiddetti cacciatori di teste per fare colloqui quando in realtà c'è uno strumento che le istituzioni mettono a disposizione del tutto gratuitamente noi qua stiamo selezionando delle persone che poi proporremo appunto alle imprese. Noi invece di G Group siamo qui per colloquiare le persone, fare in modo che conoscano e capiscano come affrontare un colloquio di lavoro e fornire degli strumenti utili appunto alla ricerca attiva del lavoro. È importante capire come trovare il lavoro e proporsi nel modo più giusto possibile. Questa mattina a Taranto si è tenuta l'assemblea congressuale dell'Anci, l'associazione nazionale dei comuni d'Italia, alla presenza del presidente nazionale De Caro e c'era anche la neo-eletta Fiorenza Pascazio, oltre ovviamente al sindaco di Taranto Melucci. Vediamo com'è andata. I sindaci di tutta la Puglia si sono dati appuntamento a Taranto, al teatro Fusco per l'assemblea congressuale dei comuni associati all'Anci Puglia per il rinnovo degli organi statutari dell'associazione. C'era anche il presidente nazionale Antonio De Caro, sindaco di Bari, al centro dell'attenzione e soprattutto i finanziamenti derivanti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. I comuni hanno difficoltà per accedere ai fondi, sentiamo i protagonisti. I sindaci di questo paese ce la faranno a spendere le risorse del PNRR e ci riusciranno i sindaci del Sud. Lo dimostrano le statistiche. In questi ultimi anni i sindaci hanno speso il 25% di tutte le risorse per opere pubbliche nel nostro paese. Non lo dice l'Associazione Nazionale dei Comuni, non lo dice l'Anci, lo dice la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei Conti. E anche negli ultimi mesi sono aumentate le spese per investimenti. Chiediamo che l'Anci Puglia si emanci più un po' da certi schemi troppo politici. È un'associazione di comuni, di territori, di comunità e deve tornare a fare bene il mestiere per i territori e per le comunità, per i sindaci. Credo che questo sia possibile e a partire da oggi vogliamo fare bene anche come territorio ionico all'interno di Anci Puglia. A Taranto le prime dichiarazioni della neoeletta presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio, sindaco di Bidetto, che subentra a Ettore Caroppo, sindaco di Minervino di Lecce. Credo che ci sia una sostanziale coincidenza e condivisione dei temi che ci legano come sindaci e quindi come rappresentanti delle nostre comunità. Sappiamo perfettamente quali sono le sfide, ma anche le occasioni, che vanno dal PNRR e tutte le conseguenze legate al raggiungimento degli obiettivi, all'attuazione di quei bellissimi progetti che stanno cambiando il volto e il futuro delle nostre città. Una marcia significativa, la marcia blu, quella che si è tenuta oggi a Taranto 2. Scopriamo perché. La marcia blu per le vie del quartiere per celebrare a Taranto la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Con un nastrino attorno al braccio e un palloncino legato al polso blu come il colore simbolo di questo disturbo, i bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Martellotta di Taranto sono usciti dalle loro aule insieme a maestri, mamme, papà e nonni, ma anche alcuni residenti e commercianti del quartiere Taranto 2, capeggiati dal dirigente scolastico Giovanni Tartaglia. E' emozionante vedere bambini dai 6 anni ai 10 anni raggruppati verso un unico scopo. I fiori più belli, come piace definirli a me, che sono in questa scuola ma che sono in tutta Taranto, in tutte le scuole di Taranto. Bene, la scuola è presente, la comunità è presente, la scuola che vogliamo e la società che vogliamo costruire insieme a loro, per loro, con loro. Questo momento di riflessione che vede al centro i ragazzi, i bambini affetti da autismo, per farli sentire meno soli e capire in che modo possiamo aiutarli a renderli più autonomi e più indipendenti. E' la seconda volta che sono uno di loro, voglio ringraziare al preside di questa bellissima scuola per aver accorto questa grande occasione, specialmente la giornata proprio dedicata ai bambini, per accogliere la gioia, condividere con tante persone, specialmente i genitori per i propri figli, la luce che si accende davanti a noi, trascorrere una giornata che non sarà mai dimenticata. E davvero complimenti alla scuola Martellotti e a tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa. Ci fermiamo adesso per quello che riguarda Taranto e provincia, andiamo nel salento alle news da Brindisi e Lecce. Presentati i progetti per la realizzazione di due impianti eolici marini galleggianti, di cui uno a largo delle coste Brindisine, oltre 4.000 posti di lavoro per un investimento di 7,5 miliardi. A Lecce il primo Inclusion Job Day, pensato per agevolare il passaggio dell'accoglienza all'inclusione delle persone migranti. Un incontro speciale a San Vito dei Normanni con gli studenti di liceo scientifico Leo che hanno incontrato la nipote del premio Nobel, Rita Levi Montalcini. In apertura del nostro telegiornale della Salento, la cronaca politico-amministrativa con gli scossoni che si stanno verificando a Palazzo di Città. A Brindisi abbiamo detto ieri della notizia delle dimissioni degli assessori, del sindaco Rossi, gli approfondimenti del servizio d'apertura di Fabrizio Caglianiello. Non ci sembrava normale fare campagna elettorale per Fusco un giorno, un'ora, e l'ora successiva stare a firmare degli atti insieme a Riccardo. Dimissioni irrevocabili dei tre assessori in quota a Partito Democratico è l'ultimo atto della spaccatura insanabile con il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi dopo la scelta del PD di sostenere alle prossime amministrative il candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Fusco. E così staccano la spina il vice sindaco Elena Tiziana Brigante e gli assessori Isabella Lettori ed Oreste Pinto. Oggi che è iniziata la campagna elettorale, perché ieri ho firmato la candidatura, non ci sembrava poi il caso di continuare. La valutazione politica, c'è comunque qualche imbarazzo nell'aver fatto questa scelta, perché voi di fatto fino all'ultimo giorno avete fatto parte di questa amministrazione condividendo l'intero percorso con Riccardo Rossi? Sì, però l'abbiamo condiviso in quattro gruppi, di cui tre poi alla fine sono nel confusco. C'è un'esigenza politica che era quella di allargare questa coalizione. Dopo le elezioni politiche del settembre scorso, a livello nazionale è maturata una coscienza, quella che è il Movimento 5 Stelle e il PD devono andare insieme ovunque sono presenti le occasioni. A Riccardo e al BBC è stato detto di entrare nella coalizione, loro hanno condizionato la loro presenza alle circostanze che Riccardo fosse candidato sindaco. Adesso i progetti presentati questa mattina presso Confindustria Brindisi che riguardano due impianti eolici, uno a largo delle coste brindisine, l'altro nel basso Salento, 4 mila posti di lavoro, oltre 7 miliardi di investimento. Ancora Caglianiello. Ammonterà circa 7,5 miliardi di euro l'investimento per realizzare due parchi eolici marini galleggianti a largo delle coste pugliesi, Caila Energia e Odra Energia. Oltre 60 gli imprenditori di aziende associate alle rappresentanze territoriali di Confindustria Puglia che hanno partecipato al workshop Eolico Marino Galeggiante, le opportunità per la supply chain locale ospitati nella sede di Confindustria Brindisi. Si è parlato delle opportunità di specializzazione e criteri di qualificazione per le aziende che saranno coinvolti nelle fasi di realizzazione e manutenzione dei parchi marini. I due progetti stanno seguendo il loro itera autorizzativo che abbiamo avviato ormai alla fine del 2021 ed è stato il primo anno, quindi ormai due anni fa che siamo arrivati e abbiamo cominciato tutti gli incontri con il territorio. I progetti hanno ottenuto la connessione alla rete nazionale, hanno finalizzato la procedura della concessione di maniale marittima e adesso stiamo entrando nella fase, dopo aver svolto la fase dello scoping ambientale, stiamo entrando nella fase della valutazione di impatto ambientale. Oltre 4.000 posti di lavoro in sede di realizzazione del progetto, 150 almeno i posti stabili, una volta ultimato dopo 4 anni l'impianto. Un'occasione unica per il territorio. L'ho rimarcato più volte il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis. Da qui deve anche iniziare un nuovo dialogo con le amministrazioni locali sui nuovi modelli di sviluppo. Penso che questo investimento in totale cuba 7 miliardi e mezzo di euro in tutto il mezzogiorno. Credo che questi numeri siano per Brindisi importanti perché se si dovesse così come speriamo andare a prendere tanto lavoro qui, costruire le piattaforme, alcuni pezzi dell'assemblaggio e anche la manutenzione, credo che ci sia lavoro non solo per i prossimi 30 anni ma anche di più. Restiamo a Brindisi per un incontro, una sorta di precetto pasquale, tra l'arcivescovo e i rappresentanti della ASL, Cristina Cavallo. La sanità è un settore strategico ed essenziale, spesso dimenticato dalla politica a cui invece servirebbe più attenzione. E' quanto affermato dall'arcivescovo di Brindisi e Ostuni, Giovanni Intini, durante l'incontro con gli operatori sanitari dell'ospedale Perrino di Brindisi. E' un settore sempre molto forse dimenticato, ecco, dai nostri progetti politici, però è un settore strategico e dedicato alla vita della comunità, perché la sanità significa cura per tutti, anche per quelli che magari non si possono permettere delle cure specialistiche e quindi bisogna venire incontro ai bisogni e alle necessità di tutti. Durante l'eucaristia l'arcivescovo ha sottolineato e ringraziato ancora una volta medici e infermieri per il lavoro svolto quotidianamente accanto a chi soffre e per tutto quanto fatto durante il periodo pandemico e poi un messaggio di incoraggiamento da parte di Monsignor Intini è stato rivolto agli ammalati. La Pasqua è questo passaggio dalla morte alla vita, un passaggio che è iscritto anche nelle dinamiche della natura. Il Pasqua avviene in un periodo che è la primavera e questo significa che il rifiorire della natura deve anche incoraggiare noi a rifiorire spiritualmente, umanamente, nelle relazioni e speriamo anche nella salute per tante persone ammalate. Andiamo a Lecce adesso perché prosegue il tour regionale che sta effettuando la FNS CISL nei penitenziari. Vediamo quello che è emerso nel carcere di Lecce. Oggi quindi quale novità porta, segretario? Oggi le novità che portiamo a questo istituto è l'incremento della dotazione organica che è principale. A breve avremo l'incontro per definire il potenziamento dell'organico della regione. Poi dopo a sua volta a livello regionale gli amici sia della segretaria regionale dovranno distribuire le unità per ogni istituto della regione. Buone notizie per gli agenti della Polizia Penitenziaria che da tempo avevano denunciato le condizioni difficili di lavoro, soprattutto per la carenza di organico. Il segretario nazionale FNS CISL Mattia D'Ambrosio dopo aver visitato l'istituto di Lecce ha infatti annunciato che presto arriveranno in Puglia circa 400 agenti in più, cosa che verrà confermata nell'atteso incontro al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria il prossimo 19 aprile. Oltre a questo il segretario ha ribadito che porteranno avanti la battaglia per ripristinare la sanità penitenziaria e poi ci sarà interessamento anche per la questione sovraffollamento delle carceri. La Puglia c'è una media personale di ansiedità di 52 anni, gli altri regioni 47, chi 46, chi 44. E la Puglia questo segnale è stato, è un segnale per quanto mi riguarda, non è segnale ottimale, però è un inizio. Delle buone notizie, come abbiamo sentito, si sono impegnati. Dobbiamo già ringraziare la loro presenza sul territorio perché effettivamente il nostro grido d'allarme che è stato lanciato tempo fa è stato accolto. In più, come Lecce, come Casa Viscondriale, avremo anche la possibilità di avere un altro direttore a sostegno del nostro direttore che adesso è da solo con un istituto così grande come Lecce. Torniamo a Verona per parlare delle eccellenze vitivinicole salentine con Gianmarco Sanzolino che è un ospite. A te Gianmarco. Sì, grazie per la linea. Torniamo in diretta da Vinitaly 2023 in questo spazio dedicato alle province di Brindisi e Lecce. Abbiamo il piacere di avere ospite il senatore Dario Stefano. Benvenuto in diretta su Antenna Sud. Grazie, ben trovati a voi. Oltre all'attività politica, anche un grande impegno per la promozione del vino pugliese, proprio in linea diretta. Ci troviamo nello stand della Regione Puglia, tantissimi vini alle nostre spalle e chiedo subito una valutazione su questo Vinitaly che ormai sta per volgere al termine. Io credo che Vinitaly abbia confermato di essere certamente un punto di riferimento per il mondo enologico mondiale, ma in questa edizione io ho percepito un'evidente necessità anche di ripensare questa modalità. Vinitaly, diciamo, io credo abbia bisogno di ricalibrare anche una modalità di promozione del vino e i grandi brand già da qualche anno si interrogano su come ripensare un luogo e una promozione che oggi con il digitale possono scoprire, possono esplorare altri ambiti, altre modalità di fidelizzazione di una clientela internazionale, mondiale, alla quale necessariamente noi pugliesi dobbiamo guardare, essendo una delle grandi regioni di produzione del vino. Nonostante le nostre eccellenze e l'impegno di pubblico e privato, c'è ancora uno scarto con altre regioni come il Veneto, la regina d'Italia da questo punto di vista. Un gap che si può recuperare, secondo lei? Ma dobbiamo avere l'interesse e l'obiettivo di provare a recuperare, provando però a, per esempio, imitare il Veneto sulla riscoperta di un orgoglio identitario che da noi tarda ad attecchire. Nel Veneto avrete visto in questi giorni che nei ristoranti, ad esempio, in tutto ciò che riguarda la somministrazione e l'ospitalità, molto spesso noi facciamo fatica a trovare proposte che siano diverse da quelle del Veneto, perché c'è un orgoglio identitario che appartiene non solo ai produttori, ma a tutto il mondo della somministrazione. In questo noi, ad esempio, dobbiamo molto migliorare, come dobbiamo provare a migliorare, però anche abbracciando l'idea finalmente che la filiera della ristorazione, dell'ospitalità e della somministrazione in generale debba confortarsi di competenze enologiche. Abbiamo bisogno che nei ristoranti, negli hotel, nei bar ci sia qualcuno che racconti il nostro vino, che lo faccia conoscere ed essendo una meta turistica, da questo punto di vista, noi abbiamo un serbatoio di potenzialità enorme che sono tuttora tutte da esplorare. Grazie al senatore Dario Stefano, poi la linea. Grazie, andiamo avanti. Lecce, l'inclusione dedicata ai migranti. È stato presentato oggi un progetto. Agevolare il passaggio dall'accoglienza all'inclusione delle persone migranti, supportando lo sviluppo della loro autonomia nella fruizione dei servizi per il lavoro. Con questa finalità si è svolta a Lecce, alla Manifattura CNOS, il primo Inclusion Job Day rivolto ai migranti, organizzato dal GUS, Gruppo Umana Solidarità, in collaborazione con ARPAL. Il lavoro che stiamo facendo oggi, grazie anche alla collaborazione con l'ARPAL, è proprio quello di creare delle sinergie positive con quelli che sono gli enti e i contesti formali per la ricerca del lavoro e quegli spazi che mettono in relazione la domanda e l'offerta e che favoriscono anche la formazione di chi sta cercando un lavoro in modo da potersi presentare con le competenze e le conoscenze necessarie. Stiamo verificando che ci sono molte scoperture in molti settori, dall'agricoltura all'edilizia, al turistico, ai servizi di pulizia. Quindi accogliamo queste persone molto contenti perché ci danno l'opportunità di dare personale alle aziende che si trovano in vera difficoltà in alcuni momenti dell'anno, specie nel settore turistico, quindi il periodo che si sta avvicinando. Momenti come questi, quanto contano per te per riuscire a trovare un posto di lavoro? Da quasi 15 anni sto a Lecce. Mi stanno guidando per capire come devo fare, per uscirmi come stavo prima e sono moltissimo contento di stare con loro. Restiamo a Lecce con il Teatro Dida Scalico e lo spettacolo sulle Vee dove sentiamo Maria Teresa Carrozzo. Uno spettacolo che ha avuto già un grande successo, adesso approda al Teatro Apollo. Vedremo qui quando ci rivolgeremo ad un pubblico lontano 30 metri cosa accadrà e se riusciremo a far arrivare quello che abbiamo realizzato riscrivendo il Don Giovanni o per meglio dire scrivendo quello che accade dopo che Don Giovanni viene condannato all'inferno. Un appuntamento atteso a quello che si terrà al Teatro Apollo il 13 aprile per uno spettacolo che ci porterà oltre i confini letterari. Dottoressa Margiotta, lei è stata scelta attraverso un casting proprio per ricoprire quale ruolo e qual è la sua emozione nel ricoprire il ruolo stesso? Allora come sempre medicatrice, quindi mettiamo un attimo da parte il medico. Sono stata scelta per fare il ruolo della poetessa ma c'è una sorpresa per l'Apollo perché c'è un nuovo ruolo che è quello della mendicante, ma non posso dire più di tanto. Però è stato molto interessante lavorare con loro, con dei professionisti e anche con dei ragazzi che fanno parte del DSM di Lecce ed è stato veramente interessante riuscire a lavorare con loro e vedere la loro crescita vicino a noi altri. Il Ronzio delle Vedove è uno spettacolo scritto a più umani, da una squadra unita, da un'appartenenza a uno spirito libero e a una libera ironia. Perché venirlo a vedere? Venirlo a vedere perché è un sequel del Don Giovanni, ci siamo chiesti cosa accade dopo che un mito muore. Un mito può morire? No, non muore. E allora cosa accade intorno, dopo la storia? Perché condannare all'inferno chi ha troppo amato? È giusto? No, forse non lo è. Salviamo quest'uomo, salviamo chi ama, chi ama veramente. Andiamo a Savito dei Normanni, adesso in provincia di Brindisi, dove i ragazzi, gli studenti del Liceo Leo hanno incontrato la nipote del premio Nobel, Rita Levi Montalcini. Sentiamo Davide Cucinelli. La scienza, come diceva Zia Rita, è importantissima. Non si può mettere il lucchietto al cervello, però la preoccupazione è come viene utilizzata. E oggi la grande preoccupazione sui ragazzi è come vengono utilizzati questi nuovi strumenti che ci danno sicuramente delle possibilità che fino a pochi anni fa non esistevano. Insomma, ci hanno cambiato la vita, ma non sempre sono utilizzati nel modo corretto. Questo è il messaggio dell'ingegnere Piera Levi Montalcini agli studenti del Liceo Scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni in occasione della presentazione del libro Un sogno al microscopio, il viaggio verso il premio Nobel di sua zia Rita Levi Montalcini. Un'occasione di confronto con i giovani studenti, promossa in collaborazione con l'assessorato alla pubblica istruzione del comune di San Vito dei Normanni. I ragazzi sono curiosissimi oltretutto di fare mille domande e chiedere effettivamente la vita di questo premio Nobel, come è stata e come è andata avanti. Sognare per i ragazzi è fondamentale perché li spinge a portare avanti le loro ambizioni e a pensare che tutto può essere realizzabile. E quindi anche in questo la nostra scuola vuole dare un input importante ai propri studenti grazie alla voce e alla testimonianza di un personaggio così pregevole. È tutto per il telegiornale della San Vito. Grazie per l'attenzione. Tra poco il Tg Sportivo. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo. Grazie a tutti.